Ciao a tutti, questo video per ricapitolare alcune fasi importanti che riguardano il dialogo interiore ed il sogno lucido. Abbiamo già detto che se noi alimentiamo il dialogo interiore nel mondo diurno, esso si ripresenta anche nel mondo onirico. La chiacchiera mentale coincide con la proiezione di immagini a cui assistiamo impotenti durante il sogno ordinario. Quindi se noi pratichiamo delle tecniche per interrompere o controllare il dialogo interiore nel mondo diurno, in quello onirico impariamo a rimanere coscienti nel sogno. Esistono tre importanti fasi che riguardano l'arte di sognare nel mondo onirico. La prima è quella del sogno ordinario, la chiacchiera diurna che si proietta anche durante il sogno e a cui noi assistiamo impotenti. La seconda è quella del sogno lucido, dove inizi a svegliarti durante il sogno, a prendere coscienza e a pilotare la proiezione di immagini. La terza fase è pura coscienza o chiara luce. Tra il sogno e la veglia c'è solo coscienza, l'essere. In quest'ultima fase nel buddismo ci si allena per arrivare nel momento della morte coscienti in questa condizione, così da evitare la ruota delle reincarnazioni. Ed è in quest'ultima fase dove noi possiamo connetterci direttamente alla fonte. Tesla diceva che l'energia è disponibile in maniera illimitata, basta aumentare la frequenza. In quest'ultima fase, attraverso la respirazione circolare ed incrociata, aumentiamo la vibrazione, quindi anche la frequenza e ci connettiamo a questa energia illimitata, questa energia cosmica, divina e creatrice, che si inradia ed espande nel nostro corpo attraverso la respirazione circolare e l'autodigitopressione. Come lanciare un segnale ad un satellite che poi ci ritorna indietro? Bene, vi invito a sperimentare e a condividere le vostre esperienze. Ciao a tutti e alla prossima! Ciao!